Ciao a tutti, un piccolo update sul Gianna Project che sta prendendo forma sempre di più stiamo preparando la moto, la carena è in studio per il disegno e i colori la moto è stata ferma questi 4 mesi caldissimi a Dubai quindi c'è un po' di manutenzione da fare però sta andando tutto bene l'unica cosa è la mia schiena che ancora fa i capricci quindi sto cercando di recuperare più presto perché le prime opportunità di scendere in pista stanno arrivando, sono vicine il Gianna Project è un progetto di promozione del territorio dell'Uliastra, della Sardegna nel mondo arabo è una cosa che ho praticamente tirato su da solo è un'opportunità per far conoscere il nostro paese, la nostra zona, la nostra regione in questo mondo dove non si conosce ancora tanto è un modo per farla conoscere attraverso le Superbike, la stagione Superbike ma è anche un modo per tante attività, tanti piccoli sponsor che vogliono farne parte, vogliono darmi supporto per farsi conoscere qui ma soprattutto anche in Italia e in Sardegna perché alla fine la riflessione della sponsorizzazione maggiore ci sarà proprio in Sardegna stesso quindi è un scenario interessante con delle possibilità incredibili perché stiamo parlando di migliaia, decine di migliaia, 50.000 visualizzazioni dirette sui miei social e niente, se siete interessati a farne parte, a darmi una mano, contattatemi in privato su Messenger o su Instagram, vi spiego un po' come fare se non lo fate subito vedrete sicuramente degli esempi di sponsor che già mi sono arrivati nelle prime opportunità e scenderemo in pista si tratta di foto di professionisti prese nei box in pista si tratta di video fatti in pista e nei box ancora che verranno postati su Reels, su Storie o su Post nei vari social che ho e che sono gestiti da una compagnia esterna che mi danno a mano quindi ci sono un po' di spese e cerco un pochettino di rientrarci con il vostro aiuto sto lavorando tantissimo anche perché faccio dieci ore al lavoro nel mio lavoro e poi dopo mi dedico praticamente quasi completamente a questo progetto i tempi sono strettissimi ma ce la farò grazie al vostro aiuto, grazie al vostro supporto sui social niente, stay tuned vi do gli update appena succedono vi tengo insomma informati grazie a tutti forza Ogliastra, forza Sardegna e forza Ducati